Un sostegno ad un settore è quello dell'informazione locale, di radio, televisioni e carta stampata da tempo ormai in forte sofferenza e con prospettive tutt'altro che rose se non interverrà un cambio radicale nel sistema. Va in questo senso l'iniziativa di questa mattina a Pescara dei consiglieri regionali di centro-sinistra e che ha visto la presentazione di una bozza di una proposta di legge con primo firmatario l'ex vicepresidente del CSM ma anche ex sottosegretario all'editoria Giovanni Legnini con la partecipazione dei consiglieri dei gruppi Legnini-Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune. Un sostegno al settore dell'informazione nella nostra regione che vive un lungo periodo di grave crisi. Va in questo senso la proposta della bozza di legge che avete presentato in Consiglio regionale? Va esattamente in questo senso e prova ad attuare un principio contenuto nello statuto della nostra regione, appunto quello che impegna la regione a favorire il pluralismo, la libertà dell'informazione, la completezza dell'informazione. Non parliamo di un interesse settoriale pur importante, parliamo degli interessi dei cittadini abruzzesi perché si sa che l'informazione libera, completa, corretta costituisce presupposto essenziale per la partecipazione democratica, quindi per la qualità della democrazia. Le finalità sono molteplici, innanzitutto è il lavoro, il lavoro di qualità, stabile, a tempo indeterminato, ben remunerato, questo è l'obiettivo, potrei dire, principale di questo disegno di legge. E poi vi è la previsione di incentivi per l'innovazione tecnologica, il credito d'imposta per accrescere la quantità di raccolta pubblicitaria, il credito d'imposta valere sull'IRAP e la riorganizzazione della comunicazione istituzionale nella nostra regione, a partire dall'istituzione regionale e poi con incentivi anche per i piccoli e medi comuni abruzzesi. Quanti sono i fondi disponibili? Prevediamo un milione di euro, non è una cifra elevatissima, ma è importante, soprattutto se è stabile nel tempo, in somma di cui prevediamo l'attingimento con precisione e che potrà costituire una boccata d'ossigeno per chi lavora nell'informazione, nel settore dell'informazione nella nostra regione.